Questa sera parliamo di start up, parliamo di start up cercando di capire meglio fino a dove c'è l'opportunità e quando invece l'opportunità può diventare un problema per i giovani. Quindi problema nel senso che come sappiamo in Italia non ci sono start up da billion dollar, i famosi unicorni che negli Stati Uniti partono dal miliardo in su, ci sono start up, qualche start up da milioni di dollari e la gran maggioranza, quindi oltre 50 mila che sono start up sostanzialmente dai 30, 40, 50 mila dollari. dollari o euro all'anno. Per i giovani cosa vuol dire? Per i giovani è sicuramente un'opportunità per esplorare qualche possibilità in più. Non sono sicuramente, se non un caso su qualche migliaio, opportunità economiche. Cioè ben difficilmente ce la faranno, ben difficilmente riusciranno a spondare il tetto dei due 300 mila euro e quindi rimane un bel banco di prova. Quindi comunque auguri e comunque ne vale la pena.